La mentre del cane va a chiudere il suo giro, è in settima posizione, Charles Leclerc lo chiude salendo di una, salendo in sesta, salendo in sesta, arriva Albon sul traguardo e sale in sesta davanti a Leclerc. Buon giro per Albon, arriva Valtri Bottas sul traguardo, il tempo lo basta, 1.15, 5.84, 75 millesimi, 75 millesimi, resta in pole position, pole position per Lewis Hamilton, che va a chiudere comunque il suo giro, non migliorandosi, ma è in pole per 75 millesimi, attenzione a Stroll che si è migliorato nel primo e nel secondo settore, sul traguardo per restare in quinta.